buonasera un saluto a tutti quanti eccoci qua comunque smettetela di usare 3 e minore perché sembra un coso che si sta nel culo non è bello e adesso ho capito che vi fate i memini in chat ma studiateveli bene perché c'è un culo è una freccia che si infila dentro il culo non è un disastro è comunque buonasera a tutti e vi ho rotto un timpano dai che cazzate non diciamo fesserie per favore è volute mike grazie grazie anche due di poco fa che ha fatto la sub col prime come state come state però è questa sera io voglio finire il gioco e quindi dobbiamo andare spediti buono io intanto vi dico una cosa io fino adesso ho giocato a main hitter comunque finora avrei quasi saltato la live quasi per continuare a giocarlo ma ma sono ligio al dovere e quindi quindi continuo a fare ciò che devo fare va bene grazie aranel per gente come te che io continuo a fare questo lavoro per voi popolo che mi amate nonostante tutto che seguite queste trasmissioni il cine che ha fatto la sub per 38 mesi ha dato il suo soldo a noi noi i termosifoni e io sono grato sono grato a voi persone che veniate che ho sbagliato niente rovinato tutto stavo parlando fluente ma ma io vi ringrazio sempre sempre perché senza di voi saremo il nulla e noi voi senza di noi sareste annoiati quindi stringiamoci la mano l'un con l'altro scambiatevi il segno di pace prego 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 grazie a voi grazie a me grazie a tutti un saluto a tutti quanti stex grazie la regina la regina vedi alla mano alla mano della stringo anche a lei alla signora regina francesco 30 pance un ciccione quindi grazie e benvenuto fai don grazie con questo mio discorso sono contento di aver raggiunto il cuore dei nostri telespettatori al di là dello schermo grazie grazie a voi che sempre imperterriti qua ci seguite siete generosi come aleccietto che ha regalato la sub a testa d'alghe quindi grazie di nuovo popolo voi siete qui a rendere oro ciò che è merda è e merda ciò che è oro perché poi bisogna equilibrare le cose non è che può essere tutto oro se no l'oro perde valore avete capito è così che funziona tipo nell'inflazione quella cosa lì perché tutta questa leccata di culo ok scusa che leccata di culo è non do mai vado andiamo a giocare basta c'è nidio che fa salire anche l'hyp train che fa la sub per 14 mesi grazie se vuoi che torniamo dicelo grazie ucina te lo stavo per chiedere in effetti però grazie grazie anche a claire salutino al volo e vado a nanna se no domani chi si alza per andare a lavoro è gma in culo ma trovarci un emozio con la parte finale ma non so grazie claire e buonanotte mi raccomando poi fai a modo domani è già è tardi se posso però ci siamo è il gioco eccolo grazie popilandia grazie c'è un volatile via volatile apro il gioco intanto lo apro si è aperto avete visto un flash nel mio volto questi sono i rumori che annunciano annunciano a tutto il mondo che il gioco finalmente si è aperto perché grazie a voi che la tecnologia va avanti grazie a voi che investite i vostri denari sulla tecnologia non state lì a dire che il vecchio è meglio che il vintage è bello ma voi siete pro alla tecnologia quindi grazie posto possiamo si grazie gabo hunter che da due euro e dice il tuo discorso è stato tra il musso lignano e il papale un crossover così non ho mai visto in effetti mi sono ispirato molto a queste figure acme che invece dona 100.000 euro di beat grazie acme un dono gigante grazie e anche adrenals che anche lui dona 30 euro di beat e dice non potevo esimermi ma mi dissocio anche dal tuo discorso così come ma che dici no 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 assolutamente però basta stop al tele voto ho svegliato scusate stop al tele voto perché adesso ho fatto il segno della ficca scusate stop al tele voto adesso andiamo a giocare per favore quindi vai c'è maxetto che ha fatto l'area sub grazie un saluto a maxetto grazie per il treno vedi è qui pronto a partire stiamo un altro qui c'è un bel una bella frizzantia questa sera comunque possiamo si è calmato tutto basta è fortissimo questo whisky stasera è bestiale non so dicevamo chiudiamo il tutto basta adesso chat comportatevi bene iniziamo a giocare con il ped perché si gioca meglio con il ped no non sono umbriaco non lo sono non ancora perlomeno è giuseppe facile da leggere che mi dice un discorso degno di conto è donandomi 56 euro di beat grazie grazie giuseppe grazie allora continuiamo dobbiamo finire il dramma di q gardens dall'altra volta prima di continuare con l'ultimo caso è quindi adesso non si ricorda nulla adesso facciamo un piccolo ripassino che come siamo partiti bene sempre lì lei lei è sempre lì allora facciamo un ripassino del caso allora praticamente è morto questo signore cadendo e sbattendo la testa era successo no come guardo i ah vedi facciamo anche il movente di albert perché poi c'era di mezzo il figlio la studentessa innamorata di lui che se la faceva anche un pochino e il collega del del centro botanico il del come si chiama il il custode del centro botanico che vorrebbe prendere il possesso diventare il direttore del centro botanico vediamo quindi il signor dunne è stato avvelenato da una relazione di veleno letale letale veleno vegetale martin emish che è il custode bisognava che avesse rovinato la sua vita e quella di suo padre assumendosi tutto il merito del suo lavoro questo era il movente suo qua abbiamo albert ha le conoscenze biologiche per stimolare le piante albert non è un grande esperto di botanica è difficile che possa aver imparato a rilasciare a far rilasciare alle piante le spore letali secondo me perché l'ultima volta ci eravamo lasciati con gli esperimenti delle piante che avevamo visto come una reazione a catena tra tre piante poteva scatenare un avvelenamento però albert il figlio della vittima a lui piacciono le barche non gliene frega un cazzo delle no delle piante noi adesso cosa dobbiamo fare scopri come stimolare le piante letali nella collezione coloniale eravamo andati nella setta dei china che hanno l'oppio ma non l'avevamo già prepara l'alcolio del laboratorio scopri che dobbiamo rifare il coso delle piante su non l'avevamo già fatto quella cosa lì prima di eseguire l'esperimento nella sala della collezione coloniale parla con tutti i sospetti sul giorno dell'omicidio ah devo fare lo stesso esperimento nella collezione coloniale nel posto tomba ex arda grazie grazie per le resu belli siamo ormai nelle notturne raggiungiamo quasi sempre il livello 5 incredibile allora quindi si l'abbiamo fatta mi era venuto il dubbio che non l'avesse salvato in realtà tavolo dell'analisi non dobbiamo farci niente fammi vedere se dobbiamo ok non dobbiamo guardare un cacchio dobbiamo andare a fare lo stesso esperimento ma sul posto tom ha chiedito io non ci sto lo facciamo andare su questo questo termotrain con 14 miliardi di bits che sono tanti e non gli basta di butt' altri non c'era bisogno tom merda di quelli dai grazie comunque gentilissimo giusto per fare 15 e non c'è 1.500 e non 1.400 che dà fastidio effettivamente no ah no non ha più gardens però prima riparliamo a tutte le persone lì crime and punishments è il titolo del gioco si gli altri 100 bit sono quando ti danno il resto che li rimetti nel portafoglio ma ti cade il 10 centesimi per terra e lo perdi allora signor emish vediamo can you tell me if you saw mr montague dunn on the day of his death yes of course i met him and we went to see albert his son at around half past nine he appeared quite calm what were you doing on the morning of the accident after paying multiple visits to albert i had a little talk with miss white then i returned to my desk to complete some paperwork suddenly i observed that mr dunn was not feeling well so i ran immediately to fetch albert i clearly remember that it was around half past ten for i was late that morning ma chi sono io babbo natale mi crede di continuare l'investigazione ultimamente c'è questo c'è questa io son contento c'è questa mania di beneficenza tra qualche utente tom ma grazie tantissimo grazie proprio ti stava qui la hip train non completato al 100% grazie Allora, tu, Albert Di tutto per le motte Sentiamo, dov'eri? La morte sembra molto sospicosa Quali erano i tuoi movimenti qui, su quel giorno? Sospicoso? Beh, ero lavorando in una casa di sede Tutti fumavi le canne quel giorno Dillo con quegli occhi, eh Non erano le dieci e mezza, quindi Non erano le dieci e mezza, quindi Oppure stai dicendo una cazzata E Mr. Hamish e Miss White Cosa erano tutti facendo la mattina? Mr. Hamish ha visitato me un paio di volte Io anche lo vedo tornare da parlare con Miss White E' stato a 10 minuti pasto 10 Ma poi riuscì qui a me Per dire che mio padre stava sentendo molto bene Allora, siamo riusciti all'interno dell'interno 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 E ho trovato mio padre morto sul piole Oh, mio Dio Secondo me lui dice cazzate Secondo me lui dice cazzate Perché allora l'altro dice di essere arrivato Verso le dieci e mezza perché era in ritardo Mi ha dato anche Cioè se lo ricorda perché era in ritardo Mentre lui già sapeva tutti gli orari Si era preparato tutte le cose E poi chiaramente è fatto Si E' un drogazzo Devo credere a lui Dai, va là Andiamo dalla signorina White Seed house Notte Pier Allora Il movente di Albert Era che Il padre era uno stronzo con lui Cioè lo trattava come se fosse un buon annulla L'ho costretto a studiare botanica Anche se lui non voleva Queste robe qua Allora Sentiamo Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can But there is nothing very special to say I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me Tuesday is the day of his weekly visit It was supposed to be at nine but he was ten minutes late as usual And then? Well I told him to say good morning Then I saw him spend two or three minutes by the plants outside the laboratory After that He ran out in the direction of the nursery Where Mr. Hamish was working He was always in a rush During the inspection, you see I would pity anyone who stood in his way And that was the last time you saw him? Yes I stayed in the laboratory A me piace Ficcare Ficcare Il naso da per tutto Ficcare Ficcare Come te Monka Omega Podgers Sono stato in guerra E non mi era mai capitato Che un treno scomparisse Amici di Discord Un buon culo per tutti Un saluto Grazie Il signor Arit Chiamati però ben bene Arit Ma che nome è? Per favore Dai Dicevamo Aspetta Chi gli ha fatto visita Non ho letto Il signor Duna O il signor Hamish Gli ha fatto visita Alle dieci Me lo son perso Me lo son Quindi il signor Hamish Ha fatto visita Le 10 Dopo Rileggiamo anche Quello che ha detto Hamish Dicevamo Ricordare Un esperimento Quando la tragedia Occurrò Posso ascoltare Il ruolo? Oh Certamente Por favor Lo troverai Lo troverai Nel laboratorio Il numero 320 Grazie Miss Tutti Ha venuto Holmes Il modo è chiaro Ok Qui dobbiamo rifare Il Il coso Però prima Io voglio No Dov'era Questa È terra di rose Franco Trentapance Nonostante prima Abbia sbagliato Franco Trent Trentrapance Ah Scusami Trentapance Era come Franco Trentalance Ma Trentapance Grazie Dalla donazione Comunque Allora Volevo andare A rileggere Un attimo Il dialogo Con Lui Stai Volevo solo Prendere Lo segno Di frontenze No Credo sia Bisogna andare In fondo Adesso Quanto In fondo Carta Carta Credito Dopo Questa La smetto Ma le si Vuole Troppo Bene Io ti Ringrazio Chiaramente Persona A cui Hanno Rubato La Carta Di Credito E tu Sei Un ladro E stai Usando I soldi Del Povero Tom Dai Non si Fa Però Grazie Allora Improvvisamente Ho notato Che Senza Non si sentiva bene Quindi mi sono precipitato Da Albert Ricordo Chiaramente Che era alle 10.30 Circa Però Quella mattina Ero in ritardo Però Prima Ha detto Altro Siamo Certo L'ho incontrato E siamo andati Da Albert Suo figlio Verso le 9.30 Ok No Quindi Era Alle 9.30 Era già lì Sogna Capire C'è qualcuno Che dice Le cazzate Kenab Grazie Belli Grazie a tutti Quanti Stasera siete Generosissimi Sarà il mio Discorso Iniziale Ma Mi piace Pensarla così Non possiamo Più leggere Perché Bisogna rifare Tutto da capo No no Allora Dobbiamo fare Con questa Roba qui Andiamo a vedere Qua Allora Si attivano Le spore Finale Allora Le spore Qua c'è Un barbatrucco Però eh Non si può Selezionare Un'altra cosa No E fugge Dalla stanza Guarda Sequenza Poi perché Quella statua Era lì Vabbè Grazie anche a Frollo Grazie Non è Allora Dobbiamo seguire il condotto di ventilazione Come cazzo si esce qua? Piazza, mi piace questo eh Dobbiamo far cadere i vermi nella testa di Non è questo, dobbiamo andare fuori Dobbiamo far cadere i vermi nella testa di Watson Vai, vai con la corsetta Corsetta leggera Manteniamoci in forma Watson Eccola qua sopra Andiamo a finire Allora perché serve la finestra Va, va, va Eh, e fammi premere Ho capito E la leva no Guarda che burdello di condotto di areazione Ma cosa serve, scusa Ma qui c'era la signorina eh Eh no, c'è l'albero, Cribbio C'è nell'altro Allora Scusami Si, veramente un sistema di ventilazione Che minchia Ok, adesso dobbiamo andare quindi All'altro perché questo non può essere Perché non si vede E chiaramente l'altro dove era Il figlio però Albert Eh, si che We can see the interior Excellent This ventilation fan is working Let's see if I can activate the other one Ah, bisogna attivarle tutte e due Però Quindi servono Servono due persone Guarda E sono dei bruchini Dai, si Perfetto Ma perché l'ha dovuto L'hai stare lì sotto Non bastava mettere qualcosa È proprio un bastardo Certo, ok Ovunque Cioè questo piccolo bruchino in testa Tra l'altro Sto deficiente Allora Martin Lo compriamo Poi Spendiamo qualche soldo Se mettiamo così come funziona Funziona tutto Però Mh, per adesso Abbiamo dell'altro però Precisione letale Piante letale mancanti Ok Il piano della sette Il divino sindacato ha lasciato Le piante IQ Garden Per uccidere successivamente Montagyu Dun Piante letale Qualcuno ha rubato Piante letale Prima Ma si La setta Sono un branco di Drogati E basta Allora Questa soluzione Porta al Martin Emis Potrebbe essere L'assassino Ha dovuto Ha dovuto modo Di rubare le piante Del divino sindacato E stimolare E stimolare Il suo posto Di lavoro Dopo aver rinchiuso Montagyu Dun Nella sala Della collezione Coloniale Esegui l'arresto Di Martin Emis Se Questo È la fine No Grazie Garro Mentre Perché Albert Albert È un Cazzaro È È difficile Perché Siccome era Dell'altra volta Sicuramente Ci Ci scordiamo Qualcosa C'entrano tutti Non credo Si possa fare Cioè È difficile Allora Non è giallo Il neurone Come mai Perché Non è il finale È vero Perché Esegui l'arresto Di Martin Emis Infatti Non è il finale Però Dobbiamo farlo Se io provo A cambiare Questo Perché Questo È rosso Stimolare Le piante Letali Nella sala Della collezione Porto Parziale Tutte le piante Dell'esposizione Comprese quelle Letali Potrebbero Verrlo Usate Per uccidere Dobbiamo fare Delle combinazioni A caso Diciamo che Albert Ha le conoscenze Diciamo che su Emis Ha il dubbio Per via della trocca Cioè Cioè Secondo me Quello di Emis È il movente Più Più giusto Nel senso È quello che È un po' più grave Eh Se mi dare L'arresto Dovrebbe essere Il finale Però effettivamente Non è Ci sono pochi Bivi Ci sono solo Ste Quattro cose Da modificare Allora Vediamo cosa abbiamo La registrazione Della White Dobbiamo andare No Aspetta Dobbiamo fare Ancora Con le strade Per far arrestare Martin E mi scopri Chi ha ucciso Il signor Dove gazzo Troviamo la registrazione Mo' Si credo Per arrestarlo Interrogarlo Si probabilmente Si esatto Potremmo già farlo Allora Però La registrazione È la 302 Mi ricordo Però Sinceramente Dove sarà Sarà in uno di sti posti Qui davanti Sarà qui Dove c'era Tutta la roba Ho sbagliato Non me ne frega niente Di sta roba qua Fastidio Che si muove Veramente Come fava Vuole lui 320 Eccolo Ma facile 320 Tac Lo mettiamo Nel phonograph E sentiamo un po' Queste plant Classificate Come shrubs O grassi Sono adattato A loro Ambiente Due A un sistema Di roste Questa Ricorda sembra molto Longa Non necessario Escoltare Tutto Miss White Era nel laboratorio Come ci ha detto Beh ma È dal laboratorio Che Cioè non è un alibi Almeno Sbaglio Però per ora Le Le cose Portano Al signor Amish Quindi adesso Lo facciamo arrestare Per interrogarlo Vabbè 320 302 Tanto Quello c'era Non è che importava E Dov'è il signor Di Asphalt The Streets Sei qua? Vieni qui Inspector I credo Martin Hamish Is guilty Of the murder Of Montague Dunn Aha I knew it I'll send the lads Around to arrest Very good I A little bit Later Inspector Inspector I came here As quickly as I could Martin Hamish Is in the large glass house There's no need to hurry Holmes Oh my god Sì Abbiamo trovato Che twistissimo L'estrade 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 Io dico che non sei impiccato Ma è stato appeso Solo dopo Grazie Seamish Tutte L'emissù Quando c'è Solo more in live Veramente Comunque Un anno Grazie Allora Boh Dobbiamo andare Immagino A Scotland Yard Sì Andiamo Beh Arrestatolo Cosa fate L'impalati Ok Sono morto Andiamo a vedere Allora Si accettano Scommesse Naturalmente Quanti di voi Pensano Che sia stato Si sia impiccato Quanti di voi Pensano Che sia stato Impiccato Quanti di voi Pensano Invece Che sia stato Ucciso E poi Impiccato Non è questo Il cadavere Ho sbagliato Qualcosa Nestrade Dov'è Il corpo Nestrade Non dovevo Che miseria Era nella serra Il corpo Veramente Cicola Grazie Sunfire Era di fronte All'esame Veramente Non l'ho visto L'ho calpestato Quindi probabilmente No Non era più Impiccato Non era più Impiccato L'ho visto Non c'è più L'avranno portato Là Scusami Le strade Arrivo E' qua Ah è qua Ecco Scusami Watson Porca miseria Watson Eh Scusatemi Allora Cacchio Quindi si è impiccato Lì c'è un bigliettino L'abbiamo visto Vediamo La mia vita E' diventata Un inferno Non resisto Più Dan Meritava di morire Ma non riesco A perdurarmi Per essermi Imbrattato Con le mani Con il suo sangue Con le mani Con le Noi Amish Siamo sempre stati Vittime Delle Delle nostre circostanze E a quanto pare Io non faccio eccezione Devo espiare la mia colpa E devo farlo Qui E ora Addio Cosa c'ha Nei piedi Gli manca Il tacco Holmes Il suo piede È unico Questa Anomalia È sempre Caratteristica Un Club Foto Bravo Watson Questo è Il elemento Di questo Case Cos'è un piede Quino Ragazzi Una Zoppia Tipo C'ha un piede Cosa più lungo No Immagino sia Quello Piede Quino Che ci dice Martinem non poteva correre A causa del piede Quino E della torsione Della tibia Dovremmo scoprire Se ha avuto il tempo Di chiudere la porta Nella sala Della collezione Coloniale E di attivare Il sistema di reazione Ha avuto un complice Quindi la lettera Era vera Ma ha avuto Un complice Delle possibili conseguenze Degli indizi Trovati nel corpo Di Emish Cetto Adesso parliamo subito Tanto è qui Ah Lestrade Sei tu Questo qui Basso Ma noi Quindi Quindi, tutti e tre, dite? Allora, come funziona qui? Fammi vedere. Martin Emish e Montagdun hanno incontrato Albert nella Serra dei Semi verso le nove e mezza. Allora, devo mettere tutto in ordine, porca vacca. Ragazzi, qui c'è da starci fino alle tre di notte, io ve lo dico. Erano le circa... allora... Devo dare per scontato che le nove... cioè, nove e mezza... Ok. Devo dare per scontato che siano cose vere quelle che ci sono scritte. Poi... Senti, va bene, è verso le dieci e mezza. Questo qui è da solo, lo posso mettere. Erano circa le dieci meno venti, quando Emish e Montagdun sono usciti dal cortile. Dopo dieci minuti... allora, le dieci meno venti. Quindi le nove e quaranta. Escono in cortile, le nove e quaranta. Dopo dieci minuti, Dun ha ripreso la sua ispezione ed è entrato nella sala dei tropici asciutti. Dopo dieci minuti, quindi qui. Emish è tornato alla serra dei semi, sempre qui. Quindi... Ci siamo? Poi, Emish ha parlato con la signorina White alle dieci. Alle dieci. La signorina White è rimasta in laboratorio fino alle dieci e quaranta. Fino alle dieci e quaranta. Quando ha visto Emish e Albert nella serra delle ninfee e li ha raggiunti. Ok, quindi alla fine. Allora? Emish è corso da Albert. Appena ha notato che Montagdun non si sentiva bene. Verso le dieci e mezza. Albert è rimasto tutta la mattinata nella serra dei semi. Ha notato Emish che tornava dalla visita della signorina White alle dieci e dieci. Aspetta, allora. Albert ha visto Emish tornare dopo aver visitato la signorina White alle dieci e dieci. Signora White parla con Emish nel laboratorio. Albert ha visto Emish tornare dopo aver visitato la signorina White. Ok, e torna. Torna dopo aver parlato con la signorina White. Alle. Così. C'è un buco alle dieci e venti. Emish è corso da Albert. Appena ha notato che Montagdun non si sentiva bene. Verso le dieci e mezza. Manca da mettere qua. Tac. Ok. Riproduce venti. Salve. Salve. Ah, andiamo qua insieme. Oh, buonasera. Ah, torno indietro. Allora. Letta summarise. Montagu Dunn was poisoned inside the Colonial Collection room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10.20. Martin Hamish was last seen at 10.10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock. which means that she had approximately 20 minutes to lock the door, more than enough time. Perfect, Watson. Now, let's ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montagu Dunn. E come facciamo? Allora, questo e questo. Allora, è molto bello questo caso, mi sta piacendo un sacco anche a me. C'è questa incongruenza oltre alla morte di Hamish proprio prima di un possibile interrogatorio. Martin Hamish e Albert sono complici. E' improbabile che Albert ne abbia avuto l'opportunità e 10 minuti dopo, 10 minuti non sarebbero bastati per chiudere la porta della sala della Colonial Collection. Albert è il complice di Martin Hamish. 10 minuti gli sarebbero bastati per seguire Montagu Dunn e chiudere la porta, affinché Martin possa attivare il sistema di reazione. No, sarebbero bastati. La White disponeva di 20 minuti abbastanza per intrappolare Montagu Dunn, chiudere la porta e avvisare Martin Hamish affinché attivasse il sistema di reazione. La signora White non sono complice, è improbabile che la White ne abbia avuto l'opportunità e 20 minuti non sarebbero bastati per chiudere la porta della sala. Eh, ma sì che sarebbero bastati, però mettiamo di no. Così Albert è il complice. Asia Cooper, grazie! Grazie per la reshub. Allora. Allora. La registrazione diceva che lei era lì, cioè nel laboratorio durante il fatto, quindi... Posso aumentare di tutti i colpevoli? No. Disaccordo cos'è? Direzione della signora White e Montagu Dunn avevano avuto un disaccordo. Dunn intendeva sospenderla per il suo incarico a Q Gardens. Abbiamo altro da fare. Entità del complice... Eh, scopri chi è ucciso. Ok, no. Siamo a posto. Abbiamo... Abbiamo tutto. A me rivederà questa cosa un attimo. Lei è al laboratorio, eh. Veloce, veloce, fai le cose. Ecco, bravo, attivo al sistema di ventilazione. A posto. Intanto che Albert non c'era un cazzo da fare, è andato a chiudergli la porta. Martin Haim, Albert, missile. Perfetto, Watson. Ora, lasciamo ascoltare a chi assiste Martin Haimish. Una dove era Albert e una lì nel mezzo dove girava Haimish. Vediamo. La White... No, la White aveva... Le conoscenze. No, ma... Come biologo avrebbe capito la tecnicità del procedimento. No, ma la... Non c'entra. Perché comunque la parte della biologia ce l'ha messa Haimish. Anche secondo me è la White, infatti è andata a parlarle appena prima, probabilmente per dirle che la vittima era in posizione. Però boh, lei da lì non ha visuale di niente. Mi sembrava un po' strano. Il momento della ragazza era il disaccordo. La situazione era White. Gli studi della vita sociale di Margaret dipendevano completamente dalla ricchezza di Dan. Perché avevano un mezzo inciuccio anche. Poi lui l'ha sbolognata. Però cambiare entrambi i centrali, quali? Solo Haimish aveva la visuale. Sì. È vero. No, ma le vai. Il generatore comunque poteva essere acceso già da prima. No, no. Haimish ha parlato anche con... Con Albert. E' stato anche da Albert, guarda, eh. Porta qui. Allora. Allora. Questa raccomandare. Montague Dunn era poesonato dentro la ricchezza coloniale. L'ho forza a aprire la porta. Che significa che qualcuno lo scoccava dentro lì, a 10.20. E' stato per 10.10. Questo significa che ha approssimamente 10 minuti per scoccare la porta della ricchezza coloniale. La posizione delle leve ci darebbe, anche perchè... Ora, lasciamo ascoltare chi ha assistito Martin Hamish in chiamare Martin Dunn. Allora, sentite a me. Allora, a parte che abbiamo il cilindro che scagiona la signorina White. Ma poi, se le leve da attivare sono due. Una è dove era Albert e una è dove era Amish. Se Albert non ha attivato la leva, vuol dire che l'ha attivata Amish. E Albert l'avrebbe visto. Quindi, di conseguenza, è semplice, sono loro due. E' così. Sì, ma qual è stato il suo ruolo nell'omicidio? Parlo di Amish. Il ruolo nell'omicidio di Amish è stato architettare il tutto. Albert era il figlio pecora nera del morto. Eh sì, Amish la mente, Albert il braccio. Infatti, Albert è lì solo per un cazzo. Cioè, lui è solo lì perché non ci vuole stare lì lui. Però, gli avrà dato l'opportunità a Amish e quindi l'ha fatto. Eh, il papà cattivo, sì. Lo odiava il padre. Quindi. Io direi che ci siamo. Albert è il complice di Martin Amish nell'omicidio di Montaghiudan. Ripetutamente umiliato da suo padre, che gli aveva tarpato le ali. Albert ha deciso di favorire il suo omicidio. È vero. Cioè, non solo lo trattava di merda, ma lui voleva andare a fare una scuola nautica. E il padre è andato da quelli della scuola nautica a dirgli di non prendere il figlio. Perché non voleva. Allora, con Dan, Albert Dan ha ucciso suo padre in collaborazione con Martin. Nonostante gli anni di umiliazione frustrate sulla sua tirannia, concludiamo che Albert è un assassino a sangue freddo che merita la prigione. Oppure, uccidere Dan insieme a Martin è stata l'unica via di uscita per anni di tormenti e umiliazioni. Poiché nessuno sa la verità. Permetteremo alla polizia di considerare un incidente. Lui era con la sua coscienza. No, fighe. Era un cazzo di omicidio premeditato tantissimo. Cioè, potevi mandare a fanculo tuo padre e augurargli la morte e levarti dai coglioni. E poi ti facevi le canne. Lo sappiamo tutti che ti facevi le canne. Lo condanniamo. Non si fanno le canne perché fai il botanico, per favore. Sì. No, fighe. Lo ben so, dottor Pivetta. Chi vuoi prendere per il culo? Merda, non è vero? Abbiamo sbagliato. Il primo errore. Cribio. Era solo un drogato, quindi. Dobbiamo ripensarci. Cacchio. E ragionamento filava. Ma guarda che il bello del gioco è che anche negli altri casi ti mette in difficoltà per davvero. Perché devi pensare a ogni piccola cacata. Perché ti mette in difficoltà a scegliere il finale. Quindi è stata lei semplicemente così. Dobbiamo invertire questi due. Margaret White è l'accomplice di Martin Hamish nell'omicidio di Montague Dunn. La sua ambizione professionale e la situazione personale avevano risentito la rottura con Dunn. White è una donna pericolosa, in grado di commettere un sfisticato omicidio per un beneficio economico. Ci vettava col figlio di... Ah no, con Albert ci vettava lei. Non con il padre qui. Io ho capito sempre che c'era gli inciuci col padre. Infatti mi pareva strano. Ho detto boh... E ha spinto Martin Hamish al suicidio. Merita il pativolo. Figa, sì. E il cilindro è registrato? L'avrà pre-registrato. Solo che Sherlock è... Cazzo, Sherlock ha detto, non c'è bisogno di ascoltarlo tutto. Dai, sicuramente è stata leitudine. Cioè, dura un sacco. E c'è sto deficiente di Sherlock. La donna, oppressa dai debiti, era segnata da unirsi a uomini ricchi. Quando Dunn l'ha allontanata, l'ha ucciso per disperazione. Martin ha provato a salvarla. Merita una seconda opportunità. Ah, sfiga, no. Seconda opportunità in carcere. Stronza. Questa botanica. Ma, come puoi essere sicuro che ci troviamo a Sra. White qui? È ovviamente, Watson. Usa solo il tuo cervello. Io lo uso, io lo uso. Ora che la ropa ha segnato a Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining. The deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her. Quietly. What ever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one. And so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the money? What was it? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over? Oh, no. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Non lo facci. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Cosa fa Watson? Di nascosto dietro? Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Schiaffa sulla mano, vai. Eh, ma Watson, però anche te, dai, eh. Vabbè, tanto va bene così. Ma che tragedia cosa? Era un assassino? Non ho capito. Il poesino ha stato fulgurato. Il corpo ha stoppato instantly, poor child. Ah, basta? L'accettiamo? Io l'accetto. Mi va bene così, mi va bene. E' morta, oh, dè. Uno in meno. Indagine a Delft Moon Street. Diciamo, abbiamo finito il caso. Adesso l'ultimo. L'ultimo caso. In teoria. E' l'ultimo, no? Rookin. Mi confermi? L'ultimo caso di murder. E' l'ultimo caso di murder. We, the secret police of Baker Street. We, the secret police of Baker Street. Invece you, Sherlock Holmes and Doctor Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Prey continue. Main course. Sao's udder in Danny Nutcracker's way. E' l'ultimo caso di murder. Ah, sembra disgusting, Holmes. E' mouthwatering. Fa venere l'acqua in mouthwatering. E' un bambini, sono ragazzini di strada, non sanno scrivere. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Sherlock, si un malto mental, eh? Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes. Wiggins. Doctor Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? A murder. Sicuramente c'è un murder. Mr. Holmes, è il mio fratello, Leighton. Il è in una città di prison. Dicono che ha ucciso due bambini. Tu hai bisogno di aiutare, Mr. Holmes. Perché lo so che non lo ha fatto. Onde è ora? Per quello che ho ho visto, hanno preso il mio fratello e gli hanno dato un buon cuore. Sanno cosa sono? Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, Holmes. Dobbiamo aiutare. E non lo so, non lo so. E non lo so, non lo so. Wiggins. Prima la cena. Wiggins, per favore. Mi dia ciò che mi odi diritto, eh. Spero di aspettare per la scena del crimine. Sostrattere, certo? È a half moon street, in Whitechapel. In Whitechapel. Dobbiamo prima andare a Scotland Yard. No, andiamo prima a vedere le cose. Per gustiamo prima la scena di Grimman. Allora, abbiamo una lanterna. Eh, sì, è una lanterna. Qui c'è il cappellaio matto. Scusami. Locked. Sì? Locked. Sì? Questa? Questa qui dimmi che invece è locked. Locked. Signor uomo. Lui fuma. Ok. Questa sicuramente si apre. Locked. No. È locked. Andiamo a questo horror. Dan 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 daran. Dei morti. Ma noi andiamo di qua. Non c'è niente. Eh, sono proprio io. Modestamente sono io. Constable Marrow. Io ero qui con l'inspector Abiline durante il caso di Ripper, mister Holmes. Ah. Ma poi questo è niente come questo caso. Con questo abbiamo il murder, il weapon e le stati, che parlano per loro. Ovviamente, Marrow. Ma tu sai che le apparenze possono a volte essere disegnate. Diglielo, Holmes. Noi non ci facciamo fregare, eh. Noi non ci facciamo fregare. Cribbio di una guardia. Chi erano le vittime? Dimmi. Le due uomini qui, i due uomini si sono scorsi. A colpi di pistola, addirittura. Brian Vercotti, un benvenuto ruffiano. E anche Kenneth Butler. Un uomini di trade. Ci fidiamo che questo signore ha già indagato in precedenza con noi? Hai parlato di stati. Hai vittime? Beh, ero qui, quindi ho dato mia propria stati. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller who was over at the far side of the street. Hmm. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street and then shortly after the firework started. A few minutes after that the fellow Chapman rush towards me and ran into Half Moon Street. Hmm, please continue. Entrato, però non è uscito. attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached by Chapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Okay. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud. hanno usato il rumore dei fuochi d'artificio per camuffare gli spari della pistola. C'era una festa? Una sagra? Ah, io so. Scusami. Regina, hai sentito? Suo parente? È May now, of course. Constable Mara, cosa altro ha avuto la tua attenzione mentre eras running through Half Moon Street? I saw nothing but rats and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open but no one was there it was dark in the room. Constable, your statements have been of great value He tried to stop the bleeding with his hand. death was not instant sofferto 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 ma tra l'altro era un criminale che ce ne futto a noi, no? the bullet penetrated his stomach sofferto a dreadful wound tatuaggio tatuaggio La scuola ha scoperto la sua head. Questo uomo non aveva scoperto di chance. un po' di legno che è iniziato tra le scuole, mettiamoci un po' più vicino Hmm, questa scuola di legno è abbastanza nuova è la punta di un bastone da passeggio, te lo dico io te lo dico Metal Dick la chiave questa è una chiave ordinaria, mi chiedo quale tipo di porta si apre qui è Tony Turner Ryan Turner buongiorno, signor Turner ho sentito che il constable Marrow ha risposto a te come signor Holmes sono proprio io, certo eccellente, potremmo ascoltarti allora, prima di tutto si controlla hmm allora la vozza c'ha la vozza, c'ha la vozza una medaglietta guerra di cremea è un veterano di guerra siamo persi qualcosa qua però pelato, c'ha le orecchie il naso ce l'ha ancora sopracciglia occhiaie di merda la vozza no non sappiamo, non sappiamo manca un bottone un moscerino volante che mi vola intorno mi da fastidio è povero, povero è povero ci siamo perduti ovvero la vozza bisogna così chiamare tutto quello che avete visto o ascoltato ero già in dormitore quando la funzione a due momenti dopo ho sentito evidentemente Sì, ho avuto due scelte di fuori dall'interno. Sì, continuo. Sì, ho avuto pronto, ho avuto la lampa da la mia nascita, e ho riuscito verso l'interno. Ho avuto, e ho visto due bambini. E c'era un uomo con un uomo che era vicino. Sì, dove? Sì, nella mia bambina. Sì. Ho riuscito a te? Non credo così. Sì, ha riuscito verso la strada Whitechapel, senza guardare vicino. Mr. Turner, hai visto qualcuno altro nella strada? No, no, non ho capito qualcosa di questo uomo. Il uomo, il uomo che l'ha incontrato. Sono gli inglesi martici. Sta accadendo l'accento da murder. L'accento di murder. Quindi. Due diversi spari. Sì, c'era una pausa molto corta tra loro, e si suonano diversi. Mi sembrava che la seconda scelta era più lunga che la prima. Questo è un commento interessante. Vero. Ho sparato con due pistole. Ho sparato magari il TAC, e poi dalla direzione verso la casa. E poi dà la direzione verso la casa. Quindi ho restato vicino alla finestra, fino a che ho visto i polizzi venivano in una mezza half moon, da Whitechapel. Poi ho passato per dire loro tutto ciò che ho visto. Tu hai aiutato un po' molto, Mr. Turner. Grazie, signor girante. Signore che gira vuol dire. No? Allora, qua c'è la signorina dei fiori invece, no? Signora fioraia. Aha! Sgamata! È inutile che fa la gnorri. Signor giratore. Ma ha già risposto male? Sto assistendo la polizia, con l'investigazione del crimine che si tratta questa mattina. Beh, ho già dato la mia testimonianza, ma molto bene. Faccia storie, non mi fa... ...controllare la signorina. ... 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 omicidio eseguito da una sola persona. Beh, essendo stato da una pistola, teoricamente è da una persona che ha sparato ed entrambi, però... Turner è riuscito a percepire la differenza tra i due spari, poiché in realtà si trattava di tre spari. Prima c'è stato uno sparo singolo e subito dopo due pistole hanno sparato contemporaneamente. Hmm? Quando l'ha detto questo? Scusate. Eh, perché allora sì che possono essere state due persone, effettivamente, se ci sono stati tre spari. Aspetta, non ho voluto. Turner è riuscito a percepire la differenza tra i due spari, poiché provenivano da due punti diversi di Half Moon Street. Quindi, per forza questo dovrebbe essere. Questo non può combaciare. Almeno dovrebbe. No, non interroghiamolo intanto. Buongiorno, signor Chapman. Oh, tu. E sì, bisogna ricreare le cose. È tutto un errore. Calma, Leighton. Sono venuto qui per aiutarti. Per trovare se sei davvero innocente, come il tuo figlio, Wiggins, ha detto a me. Il mio figlio? Tu lo conosci? Sherlock Holmes. Sono io, Sherlock Holmes. Allora, signor Holmes. Allora, innanzitutto controlliamolo. Diciamo che c'ha un bel segno particolare. Chiarissime occasionali, no. Qui gliel'ha mangiato uno squalo, altro che. Poi, ematomi. Queste sono le cose occasionali di cui dicevamo. Sciarpa decorata, moda di città, lavoro facile, impiegato d'ufficio. Il fratello Coraccio, invece, è un barbuno. Ah, è stato in carcere dove era il tizio. Vediamo cosa ha da dirci. Bene, dicami il tuo account di cosa è successo. Ho lasciato il mio lavoro e ho riuscito a vedere le foglie in Whitechapel. E' stato lento, quindi ho deciso di cercare la strada di half Moon Street. Ho visto le prime foglie che si è brillante nel cielo. Allora... I bumpedo into a constable on a corner before entering half Moon. Then suddenly, what with all the firework flair, I saw two men They were both lying flat in the middle of the street I stopped where I was I thought about turning back to the police But as I was thinking of that I saw a third person He was leaning over the body That was furthest from me The second I saw him He raised his head And he stared at me In a flash I saw his gun But he made a dash for it instead And he escaped through Whitechaple Street So you might still have had time To return to the constable I panicked I didn't know what to do In any way I approached the bodies Just to see if they were still alive I saw that one had Blood pumping out his stomach He was dying It was horrible The second one was already dead He had a hole in his head He was holding a gun in his hand I took it And then I followed the third man Interessante Pray, continue I turned the corner And I saw a man standing in the middle of the street He seemed to be in some sort of panic And then Mr. Holmes Something strange happened I told the police And they laughed at what I said But I swear to you My words are true I started running towards him But then I was blinded by a flash It was so bright that I hardly saw anything For a good dozen seconds I came to the floor As I arrived in Whitechaple I heard a woman screaming And then I was caught by the police But there wasn't a trace of that man Course then they found a gun And all that blood I couldn't see the murderer escaping And all that mess Perhaps I was still Half blinded at that moment A thrilling account My young man Layton Are you able to describe The person Whom you saw standing In Half Moon Street Well I wasn't able to see his face at all It was too dark And he was too far away I could see his silhouette Hmm And what about that? Nothing so special He was wearing a jacket He was quite average In size and his weight I see Was there anything else That struck you at the time? No But perhaps It's strange but I can't remember the sound Of his footsteps As he was running away Era scalzo Era un uomo scalzo Lo sappiamo All the surprise Of me seeing him Layton I confess I am puzzled Why should a young lad like you Take a gun From the hands of a dead man And set off In pursuit of a probable Killers Oh no I keep wondering But at the time It was like a reflex A criminal Ought to be arrested And he was armed You were willing to risk your life That was a little foolish Unless You wanted revenge No Mr. Rams I was just being brave and stupid I believe that you may have recognized one of the victims Brian Vaccotti Era un vecchio amico You knew that gentleman well Did you not? How How ever could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand I observed exactly the same mark upon Mr. Vaccotti You came to know him from your sharing a past prison sentence Am I correct Mr. Chapman? Oh god You were right Mr. Holmes Eh Che vuoi prendere per il chiulo per favore I was convicted for a robbery Once in prison Both of us joined one of his fraternities During that year we tried to help each other out You know You were quite young then I believe Yes Mr. Rams we were We'd only stolen a pound of meat After we were released And when I saw what my little brother had become I decided to work towards living an honest life And Vaccotti E' a lui che sembra Che non ha 18 anni E' un po' Herbert ballerina E' un po' Herbert ballerina Allora vediamo se abbiamo qualche indizio in più Vecchia conoscenza E' questo allora Qui abbiamo La persona descritta da Layton Chapman Nella sua dichiarazione è un prodotto Della sua immaginazione creato per scagionarsi Il crimine violento commesso presumibilmente in Half Moon Street Da Layton Chapman potrebbe avere un movente personale E' questo cosa succede Fatto E' lui Duplice omicidio Layton Chapman ha commesso un duplice omicidio da Half Moon Street Una vecchia inimicizia mutua tra Layton Chapman e Brian Verkotti E' stato un movente di questo delito Minchia A posto No Non ci sta Fatta risolta tutti a letto Via Da cortissimo Sarebbe un metodo di chiusura di una serie Terribile Il signor Esol Io me ne vato Dobbiamo andare a fare delle indagini Allora Dobbiamo tornare Aspetta Parla col signor Turner Verifica C'è stato un possibile fuoco incrociato Tra Candidate Battler Dobbiamo avere cadavere Fia una ricostruzione Ok Dobbiamo andare Ad Half Moon Street Finito il gioco Sì Per finale Allora Siamo di nuovo qua Andiamo Piri Pию P 194 Piri Pi Pi Piri Pi 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 Un bastone abbastanza lungo, con un endo forcato Non so, chi ce l'aveva l'arma? C'è il bastone, c'è Cribbio E' il visualizer di TTT, si Certo che è useful, porca miseria, fammi vedere qua Eh! Si Si Watson, c'è stato un terzo sparo, hai capito? Oh Eh, poliziotto, bastardo Qua non posso vedere qua No, me lo fate anche vedere Allora Allora Ti stai un po' arrampicando negli specchi, caro il mio pelatone Ti capisci Ti capisci cosa vuoi dire? E' stato un po' stressante, per dire la verità, signor Prendi a formare le mie mie teorie, signor Turner Prendi a farmi vedere la vista che hai avuto dalla tua scuola Eh, eh, non all'altro, signor Holmes Porca, seguimi Prendi a farmi vedere Prendi a farmi vedere la vista Il signor Turner sembra vivere molto modesto Si Quindi, probabilmente, il morto che reggeva la pistola ha ammazzato l'altro Si In più c'è una terza persona che ha sparato a quello che ha ucciso uno No Allora, però siamo dentro casa del signore, qui Si Ha bruciato qualcosa Prendila, veloce Si Allora Adesso mi dai una Un attimo Che c'ho da fare, signor Turner Qui c'ho un coltello E poi E poi La cucina I masugli Carta a brandelli Dove cazzo la vedi la carta a brandelli, scusami Ah, qui Ci sono piccoli di paper scredito Di qui Questa cucina Si Si A Tu Ma Il vecchio Perché gli hanno sparato conto No, mi hanno sparato di là Il corpo morto di Kenneth Butler Brian Vercotti Il corpo contortato Il signor Turner ha avuto una perfetta vista Della scena di crime Il nostro corpo ha visto chiaramente E Leighton Chapman Stando sui loro Tra l'altro Perché c'è la via questa di qua E poi si va di qua Ok Qua c'è una cosa No, non ce ne frega niente Meglio guardare le mensole Il bastone Se gli manca la punta Ragazzi Se gli manca la punta Gli manca la punta Eh Casso I libri I libri Aiaiaiaiai Signor Timmy Turner Dove sono i suoi fantagenitali? Ma chi ci crede Ma chi ci crede Ma chi ci crede Ragazzi Quante robe Ha aperto la finestra Ha aperto la finestra Ha visto i due cadaveri Ha visto i due cadaveri Quindi è sceso di sotto Poi è tornato su No, non è tornato ancora su Ha tagliato la carta con il coltello Quella buttata nel fuoco Ed è questo Vediamo se va bene Come ti metti a friggere Dabbo A quest'ora del mattino Deve far vedere tutto Con questa lentezza immonda Apre la finestra Con estrema lentezza Dice Oh my god Ci sono due morti Fammi andare a vedere Per favore Non farmi vedere Prego Facci con comodo Porca puttana Tutto ci deve far vedere Ma io non ho parole Tutto Sto dottor house dei miei coglioni Oh È morto Per davvero Cribbio Fa vedere meglio Fa vedere Oh Scratta crunch Si è incastrato il bastone Puttana Vacca Adesso Torniamo su Ah ma andavanti C'era il fast forward Allora adesso mi taglio Mezzo etto Di carta E lo buttiamo nel fuoco Adesso Mettigli giù il bastone Come non è andata così E che cazzo c'era in qui Potevo farlo fin dall'inizio A quanto pare Ma dopo 12 ore Si Non è andata così Se non è andata così Com'è andata Si è alzato O ha preso il bastone È ben diverso Allora Tagliato la carta Poi vai in giro Claudicante Butta la roba nel fuoco Va a vedere Quel che è successo No Aspetta Aspetta Qui ci può essere il Posato il bastone rotto Ha preso qualcosa Aha Ma quindi cambia in base a quando lo metto O fa tutte e due le cose comunque 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 allora si alza Per andare alla finestra No Poi Torna indietro Prende il bastone Prende qualcosa Taglia la carta col cortello Tac E poi va giù Al corpo Però si appoggia il bastone No Quello lì Allora forse andava bene No perché il bastone Per forza Alla fine Lo riappoggia lì Rotto Eh Allora si alza Va alla finestra E ma dopo scusa Non è come l'abbiamo fatto prima Tre Tac No ho sbagliato Cos'è Tac Aspetta Ho sbagliato Tac Appoggia il bastone Taglia della carta col cortiello E la butta nel fuoco Forse era diverso Si devo usarli tutti per forza Credo Si alza Va alla finestra Oh C'è uno morto Vado giù a vedere Chi sarà mai Occa misera Mi sono rotto il bastone Vado su Cribio Erano proprio quelli stronzi Fammi buttare via sta cosa Taglio E brucio Ok Sembrava di aver fatto uguale Prima La questione è Che trovato Che trovato Allora Allora Ho c'ho Libri Macchie di unto Posso vedere Posso vedere Prima di aver visto Prima di aver visto Moby Dick Bene, ora potrei trovare una preciosa jewel, conceduta dentro un libro Un brinco con un design di rams head unico, un'attività distinta di artefatti grecci Probabilmente dell'era Hellenistica Non sembra ragionevole, perchè i tre spari sulla scena del delitto dimostrano la presenza di una seconda arma non ritrovata Ok Tanto qua Ok, no, va bene in realtà Allora, signor Turner Minchia Innanzitutto Un po' potato conoscerlo Ma che cazzo dici? Un po' potato Ok 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 Potremmo sbagliare qualcosa Ma mi sembra che tutto si accadde così veloce Oh, il tempo può prendere tanti E cosa di tutto ciò che ci può dire? E' bene che non è veloce Esatto Mr. Turner, è importante che abbiamo il tuo completo e vero Mr. Holmes, ti assurro che le altre cose che ho detto erano più sinceri Basta Basta di dirle cazzate, allora Arrestiamolo subito e incolchiamo lui, via, basta B-b-b-b-Mr. Holmes Questo, Mr. Turner, non sembra come nulla cosa che un uomo potrebbe possessere Adesso non sto mai capito Oh, ho capito Oh, ho capito Non è veramente l'unica cosa di valore che ha dentro casa E' un drogato anche lui Ma almeno magari Si faceva davanti di dolore e fico con la gamba Ha l'ho rubato dal... Ha andato giù, ha luttato il cadavere ed è scappato? Si è scappato Il constable Mallow non era potente vedere te nella finestra Se stavessi subito le stelle sulle volte a tua flat Dopo tornare a casa Si scogli la preciosa jewel In un libro E' un imbecille quindi Un vecchio di merda Sostanzialmente Allora Quindi Adesso cosa ci rimane? Allora Braccialetto Dobbiamo cercare nell'archivio del braccialetto Parla con l'agente Mallow Scopri se non scopri while you were running through it with your lamp all right mr holmes what should i do take your lamp and start walking just as you did before and try to find me understood quindi vediamo dove è signor holmes cribio dove è il nostro costo mr holmes ha ha ma io fino qui non ci sono mica venuto proviamo signor ah l'ho vista bastardo eh però ci sta che lui non l'ha visto non è che adesso per forza sta attento a tutto ma non c'è più aha l'ho vista ma chi ci crede ok abbiamo questa cosa qua sono le vittime di un duplice omicidio eseguito da una sola persona sono morti in un fuoco incrociato in cui ognuno aveva una pistola una delle armi è scomparsa e questo è tutto rosso incredibile se consideriamo che c'era un'altra persona dal home street al momento del delitto l'unico modo di scappare era verso l'alto ricostruiamo la sequenza ricostruiamo i fuochi d'artificio descritti da leiton e cerchiamo di arrampicarci sul muro eh quindi qualcuno sui tetti sono sempre a chiederti cosa cazzo mi passa per la mente ma pensa a te stesso per favore allora dove inizio non trovo la pistola segnaletica ai cazzi li torniamo a baker street comunque il colpevole è spider man si notte vecch quando qualcuno è concentrato nel fare qualcosa può sfuggirgli qualcosa ma infatti hollow si cioè secondo me ci stava che non cioè nascosto in quel modo potesse non essere visto l'assassino però è anche vero che l'assassino non si mette in un posto dove potrei cioè non è che mi nascondo lì di pensando magari non vengo visto mi serve qualcosa di sicuro quindi ci sta allora allora aspetta gli archivi prima gli archivi arte e architettura scienza economica storia storia greca no quotidiani no ricerche benedosi ferite legioni criminologia arti marzali segni e simboli il braccialo loro trovato nell'apprende del signor tal nel decorato con teste di ariete ariete questi splendidi gioielli antichi costituiscono una parte della della collezione tesori ellenistici su un bracciale una collana e un anello tutti di oro puro sono raffigurate cinque teste di ariete cinque ariete di mitilene erano scomparsi nel museo nell'ottantacinque ok ho bisogno di continuare la mia ricerca nei miei archivi un articolo su pezzi di antico ariato ok nell'ottantacinque dicevamo sono stati sottratti ieri sera durante il loro trasporto dal British Museum alla mostra di belle arti di Glassford Kenneth Butler proprietario di un banco dei pegni si è messo in contatto con Scotland Yard la notte stessa e ha fornito informazioni Kenneth Butler Kenneth Butler era quello con lo sparo in testa no ha cercato di vendere una collezione di arti storie nel suo allora si è messo in contatto con Scotland Yard quindi la polizia la notte stessa e ha fornito informazioni su un uomo che ha cercato di vendere una collezione di arte storica nel suo locale di Church Street ok la polizia ha dunque catturato l'uomo descritto un ladro professionista chiamato Vincent Foley che tentava di fuggire da Londra dal porto è stato riconosciuto dall'autista nel mezzo che si trasporta dalla collezione di sull'inizio Vincent Foley si è rifiutato di confessare e di rivelare l'obbligazione del resto della refurtiva alla fine è stato arrestato i tesori persi e non sono ancora stati trovati eh però allora però il bracciale il vecchio l'ha preso da l'ha preso da terra dal cadavere col buco in testa che era Kenneth no? era Kenneth Butler quello che ha denunciato la scomparsa degli oggetti mmm qui è uno dei vittime, Kenneth Butler ha detto che c'era qualcuno che nel suo locale cercava di venderli però una visita a suo prodotto di pagina dovrebbe dire più wow ok quindi andiamo al banco dei pegni esatto il tesoro non è mai sparito allora ma scusatemi eh Watson cosa fai là per favore no? ah che bello il localino dentro butler pawn shop usa la chiave mister butler's key match is the e certo Vincent quindi movente per vendetta dopo essere stato incastrato con bacia assolutamente con bacia allora allora bancone vediamo cosa c'è nel bancone collana di ariete le due teste cacchio cacchio certo per tutto questo tempo una parte di questa collezione dieci anni dopo il furto mhm lettera ehi la Kenneth questo è Vincent ci ci curo eh ci curo ricordo ricordo che una volta mi hai parlato di tre gioielli d'oro con teste da riete nell'antica dell'antica grecia li hai ancora vero? beh ho una bella notizia per te ho trovato un uomo ricco sfondato che impazzisce per quei gioielli è disposto a sborsare una piccola fortuna hanno brian vercotti questo ok posso organizzare un incontro con riccone voglio essere coinvolto nell'affare ti aspetto all'incrocio tra gritali e alfmonstreet domenica sera prima dei fuochi d'artificio ok 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 c'è altro apriamo vediamo un po' abbiamo già fatto qua? questo è esattamente quello che abbiamo bisogno per imitare il flash delle foglie eh non c'è più nient'altro no scafali attrezzatura da scalata questo è esattamente quello che ho bisogno per incontrare la palla le foglie non funziona tanto ciolo tutto tanto chi se ne frega allora parlo con la gente amara e cerca di riprodurre il bagliore ok andiamo a a replicare a 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 Oh no, allora dove hai ricevuto... ...che quale è che tu stai spingendo? Mi dico molto che lo hai comprato. Ciò che non vedo non può essere scoperto. Se il passino probabilmente c'è l'anello. Io vorrei stare qui dove si lo vede prima che era scoperto dal flash. Watson, tu sarai lato. Quando mi fai il Signalflare, tu dovrei provare a me spingere. Mi comprendo, Holmes. Tu, Constable Merrow, giusti la parte e faccio proprio come ti faccio. Poi, chiedere 5 secondi dopo il Signalflare. Non dico che Polly Powell avrebbe scoperto mai più oltre. Come ti dicono, Mr. Holmes. Allora... La mura illuminata questa mura. Qualcuno cercando di scopertarlo sarebbe facilmente scoperto dal Constable Merrow. Quindi non questo muro ma questo muro. è sempre scoperto da scopertare. E' difficile vedere... E' difficile scopertarlo. Quindi... ... ... Sono stato accettato, Cribbio? Oh no, è scomparso! Cazzo! Con questa lentezza È un problema Sherlock Se ci mette così tanto lo vede sto coglione che si arrampica E poi non senti il picchettio del cacchio Sarà un mastro arrampicatore Cacchio dobbiamo fare prima? Veloce 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 Holmes? Sei qui? Onde è? Oh mio Dio, un uomo non può solo disappearci così Holmes? Holmes, where are you? Adesso come cazzo scendo Holmes non ha lasciato alcune tracce di soli strumenti Constable, c'è un modo di arrivare al top di questo edificio? Sì, mister Holmes, posso mostrarevi Il dito del edificio può essere trovato da Whitechapel Street E' morto Ok Quindi Questo è l'ingresso immagino E' sparito Holmes, com'è possibile? Holmes, Holmes è sparito Come può essere avvenuto? E' chiudere E' chiudere Chacca. ...e esaminare le fibre. Non è un filo, ma un pezzo. Ahah, criniera di cavallo. Ho bisogno di comparare questo sample con un pezzo di umano e un pezzo di pezzi. Hmm, un pezzo di piazza è... Watson, potete passami il pezzo di piazza? Qui sei. Grazie, è molto gentile. Watson, guarda, cosa è fuori l'interno? Beh, non vedo nulla. Ouch, Holmes. Oh, non ti faccia una fossa, una piccola pezzi. Eh, che simpatico il signor Sex. Mi sembra, no, no. Un pezzo di piazza che abbiamo trovato. Un pezzo di umano è significativo. Quindi, questo pezzo nello belongs a un animale e è più grande che un pezzo. Un pezzo di un pezzo di umano e exotico. Un animale esotico. Porca miseria. E chi è stato in esotico? Cioè in... Come si dice? Un animale esotico... Uno scalatore. Uno che fa scalato, uno scalatore. Due vittime. I gioielli di Butler. E basta. Allora, cosa abbiamo di nuovo? L'innustenza di Leighton. Prova in... Allora, la dichiarazione di Leighton Chapman sul misterioso uomo in giacca che ha partecipato alla sparatoria del Fulminis è rilogata vera. Aha! Sì. La ricerca... Il movimento del Ful è un movimento personale. La ricerca di tesori è lenistico e scomparsi potrebbe essere il movimento del crimine commesso da Dalfun Street. Il signor Turner ha raccolto il bracciale subito dopo l'omicidio. Ma manca ancora l'anello. Sì. L'acrobata circense è un uomo scomparso dalla scena del crimine della Fulminis per essere un acrobata circense riuscito a scalare un muro di oltre 9 metri in questione di secondi. Sulla giacca che è stato lasciato che è lasciato sotto quello di un grande animale esotico. Un elefante? Eh? Non lo sappiamo. La persona descritta da Leighton Chapman nella sua decreazione è un prodotto della sua immaginazione. No. Sappiamo che no. però c'è un circense un acrobata circense addirittura. La persona vista da Leighton Chapman è scappata dalla scena del crimine era piccata sul muro e si attraversava di una prima cosa e il criminale ha perso ha preso una pistola da uno dei cadaveri. Il criminale ha preso una pistola da uno dei cadaveri ma quindi come ha funzionato? Cioè allora c'erano questi due questo ha sparato un colpo in aria e un colpo nella panza no? Poi questo è morto poi è arrivato l'altro ha raccolto la pistola di questo e ha sparato in testa al tizio che è morto e questo è scappato però ci sono dovuti essere due spari in contemporanea un minitore foglio incrociato questo cosa diceva? Sono le vittime di un duplice omicidio eseguito da una sola persona no si da preso la differenza tra due spari perché proviene no sappiamo che sono tre spari allora andiamo a chiedere a Wiggins del circo eh i due si sono sparati appena si sono visti quindi all'unisono no adesso cosa c'ha da dire dai Wiggins mio figlio cosa stai facendo qui? meglio andassi veloce e sei rapido su questo non ho fatto nulla tu avresti più da guardare il Mr. Holmes il sape esatto cosa sta facendo non come tu guarda la tua tona però è molto tollerante il poliziotto Wiggins dai forti bal devi lavorare Mr. Holmes abbiamo buone notizie Wiggins l'investigazione ha provato molto interessante una giraffa un animale esotico più grande più grande di un cavallo l'elefante la giraffa basta cos'altro c'è il cavallo è grande il gorilla un cammello non è così grande non ti preoccupare Watson ho preguito qualche notizia in sette secondi sette secondi si il pelo è nero poi Mr. Holmes abbiamo trovato qui l'elefante allora l'elefante come l'elefante non ha i peli qualche pelo non ce l'ha l'elefante da qualche parte ce li ha i peli e questo è un'elefante l'elefante l'elefante del show andiamo a vedere se a quell'elefante gli mancano dei peli dai ai io stop right there good morning sir pardon me but why am I not allowed to walk around here because it's private well I only wanted to meet the artistes hmm you're wanting to apply for nah you don't look like the type of artistic lockpicker that we're looking for but you might be surprised whoop yeah I don't think so clear up guarda che abbiamo fatto le gran serratura eh siamo top scassinatori noi in realtà e io passo lo stesso dai oh le strade non mi fanno passare crebio eh dovrebbe uno che regge un elefante bravissima che gente avete qua dai fammi passare che miseria mi devo semplicemente vestire a modo it's cosplay time via nella scatolina magica che si chiama camera di Sherlock Holmes come si vestirebbe un circense nero marrone verde grigio leggero bandito contadino vestaglia marinaio sbottonato informale nero intanto alcuni sono bloccati quindi da bandito mi vesto da bandito eh poi vai al tavolo da trucco eeeh Qualcosa da scassinatore Dai Questo mi piace Vai siamo degli scassinatori Andiamo Ah scusami Non hanno gli occhiali I veri criminali Scusatemi Niente occhiali Allora se volete fare i criminali Mi raccomando Levatevi gli occhiali Chi è lei Siamo proprio riconoscibili Grazie Watson Questo significa Sono pronti per andare Watson sei veramente un rincoglionito Hai fattolo dire Chi sei tu? Qual è il tuo nome? Mi chiamo Nigel Sono qui per aprire i lock Tantane Siamo i vostri lock picker Siamo i vostri lock picker No se vuoi rapinare una banca con gli occhiali Non ci credono Non ci credono Alcuni dei barri sono fatti Trasportazione Non può essere fuori Qualcun Siamo qui Dopo la mattina Per prendere le scuole Io voglio essere pagato prima No Siamo pagati dopo aver fatto il trasferimento Come ho detto Certo? Spero che nessuno ti vede Siamo qui La polizia sta a guardare Ovviamente non Sono un professionale Mi piace di ascoltarlo Sei pronti per la mattina Siamo pronti per la mattina Attenzione Vediamo un po' cosa c'è qua prima Rise up La rivoluzione quindi vogliono fare La rivoluzione quindi vogliono fare Ok Stanno organizzando una rivoluzione questi quindi Sostanzialmente I barili Oggetto rilevante ci servirà poi quindi Devo far esplodere tutto questi Ok E manca Ancora da far lì Vogliamo far saltare il parlamento E quindi poi parte Cioè dopo lo spin off Di V for Vendetta Cos'altro c'è? Ci siamo persi qualcosa Dobbiamo raccattare qualche cosa Da qualche parte Per Per lì Quella polvere da sparo I barili erano ancora bianchi Ma per Cioè potrebbe essere anche Che non li abbiamo Guardati bene No però non c'è niente in giro Perché c'è la spaccatura sotto Che dice oggetto rilevante Nel senso che poi Possiamo poi andarla a recuperare più tardi Vediamo se ci siamo persi qualcosa Ah aspetta No aspetta era venuto fuori colpisci Ok Vogliamo far esplodere il parlamento Non c'è Stolen by the Merry Men Quite recently And these poster samples I am quite sure It is not a coincidence The Merry Men Are planning some sort of sabotage Stop right here Who are you? Are you Charles Foley? Maybe They say that I can open any door Do they now? We'll see that lock near the chains On the table over there I'm going to Adesso ti faccio vedere io Quanto poco ci vuole Intanto Ti osaminiamo bene Tu Brutto scemo Allora C'è l'orecchino Quindi questo Sicuramente C'è una chiave Chiave complessa Cassaforte protetta Una macchia di sugo No Aha Qui si è ferito Vieni sanguina Trauma recente Poi Una pistola Grosso calibro Spietato Addirittura L'anello Della riete Merdone Eh 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 Sgamellissimo Dita bendate Pratica digita Acrobata Abbiamo trovato Ciccio Ma adesso Fammi Smistare Questa serratura Guarda come Gliela facciamo Easy eh Ormai siamo Dei maestri Allora Partiamo Da L'esterno Ok Così Acrobio 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 E questo è così Allora C'è qualcosa Che non va Dove? Qua Ma 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 chi siamo noi? Cioè For cortesi Eh Signora Assassino Ma Visto Ah scusami Charles Foley Cosa ne sconde Charles Foley La pistola Di Foley E l'altra Charles Foley Porta un antico anello L'ultimo pezzo Mancante della collezione Cinque reti Di mitilene Oltre a una pistola Sotto la cintura Ciò dimostra Che Foley È il nostro Misterioso uomo In giacca Fuggito agilmente Dalla scena del crimine Ad Half Moon Street E se così Forse Se così Forse Come conosci Ladro imprigionato Prigione di Westgate Chiave dalla porta Chiave dalla porta Chi è? Giuseppe Vedo le ultime video che ho Mi sto appassionando un sacco Che bella nottata Sono contento Sono Sono apposta E Un altro razzo piccante Di Turner Prigione di Westgate Ladro imprigionato Cosa abbiamo messo adesso? Prigione di Westgate O ladro imprigionato? Cacchio Mi ricordo cosa cacchio Abbiamo messo adesso Chiave dalla porta Contradizione di Turner Ok È una lunga storia Ho metto il tuo frate Vincent Vincent The Butcher Foley In prison Il mi ha detto Allora 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 E ti farai il lavoro Perché ho bisogno di un Talented Picar I Sì Allora Dove scassinare il banco dei pegni per rubare la collana per il resto della... e che otteneremo per questo? partiremo la luta la cosa che sembra di sapere certo, aspettate per noi nella casa abbandonata a una corner di Ledbrook Grove e Kensington Park Road a metà deal deal qui sono, nel manor in un'altra parte di me è arrivato subito il fratello di Wiggins questo lock è abbastanza vecchio non dovrebbe essere molto di un challenge vai minchia eh minchia ok, c'è solo di qua la lineetta proviamone una delle due se questo è così questo è così questo è così mmm qui c'è qualcosa da cambiare allora siamo o non siamo i mastri scassinatori quindi for cortesi qui così combaccia tutto tranne qui ok 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 porca vacca questo è difficile questo è ma noi ma noi non ci facciamo porca merda ho sbagliato noi non ci facciamo fregare così facile mount allora se questo viene cambiato così questo viene messo cosa ha questo viene messo cosa ha è 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 oh ci siamo è 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 facile easy 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 poggers è è è allora siamo già nella casa che dobbiamo scassinare stanotte perca puttana allora facciamo un sacco di righe una due porca miseria questo non è semplice ragazze a non si collegano questi non si spostano quindi bisogna collegarci qualcosa in mezzo ok a sinistra più o meno ci siamo bisogna spostare quello grosso in modo da far combaciare questi era una cazzata questo poggeroni e the master of lockpicking ing che sorpresa un altro lockpicking hmm e non potrei farlo ricordo quella preciosa chiave sull'occhio di foley potrebbe provare una migliore credo che mi hanno chiesto solo per aprire il primo lockpicking lasciamo aspettare per i pezzi e troviamo ok secondo me facciamo tranquillamente anche la seconda comunque le vie di figa le vie di figa dove sono c'è questa la porta principale scusami la finestra la finestra sono degli acrobati eh ricordiamocelo c'è una bautola la finestra la finestra andiamo nello scantinato no andiamo nello scantinato allora niente scantinato che schifo le cantine dopo dopo ci andiamo ci si nasconderà lì questa porta è perfetta un modo percorso in un'emergenza questa porta porta a una cucina che mantiene la più corta per la porta dietro no voi siete bravi comunque non sono io siete voi che mi supportate tutto il gioco allora tanto d'aver fatto cadere il lampadario tanto d'aver fatto cadere il lampadario si si ma si si ma si si esplode buttiamo le perle per terra così lo facciamo cadere è diventato mamma ho perso l'aereo ve lo dico io sti quadri che ha anzi e quadri così un passo si 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 e si allora quindi no ho sbagliato visione allora se va sopra si ammazza eh ok ok ora possono uscire solo dalla da qua un solid questo lo metto in tasca? ci ho messo in tasca una sedia ragazzi qui questo è un modo perfetto di escazione oggetto rilevante e nient'altro no allora qui è sbarrata la bottola c'è 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 lo ammazziamo mi ha lasciato un buco adesso posso usarla la corda? no poi qui basta chiudere la porta no? la blocchiamo la blocchiamo con la sedia ora ah ecco richiede un oggetto la corda aspetta fammi andare a vedere un attimo di qua Stumartiel credo credo che i thieves sono pronti chiedo chi ha un oggetto forse mi sono perso qualche cosa porta lo scantinato ok questo dovrebbe no non è giusto vedi la finestra chiusa salta non assaltare ah potrebbe sfondare la porta col martiello no non volevo vedere scusami ieri era il compleanno di arthur conan doyle che storia beh dai gli rendiamo giustizia allora tappeto questo dovrebbe essere usato ah lo mettiamo sopra la botola la porta è ora bloccata ora è ora bloccata allora andiamo a mettere apriamo la col tappeto è non non un ottimo pietro e si andiamo voilà sbaglio sempre ora 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 ci manca il martello basta metterlo da un'altra parte ora ci manca il martello basta metterlo da un'altra parte ora ma siamo dei geni del crimine e sbaglio sempre l'immaginazione con l'occio però se si 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 siamo pronti abbiamo fatto il trappolone polizia polizia che paura siamo degli omicini siamo degli assassini siamo stop where you are where are they? trapped watson with your assistance how so? oh you sound just like a real bobby my dear fellow who startled them into the traps i did i assurdo i assurdo i assurdo they will not escape the house now you scum and this is the pistol used for the murder in Half Moon Street how do you know about that? have you closed the case yet Sherlock? Mycroft what are you doing here? did you follow me? Sherlock it may seem that I used you but you should be pleased to know that you have served our queen well in this instance so now let us catch the big fish but this man is not one of the Mary man no then why exactly are we here Sherlock? this gentleman Charles Foley has been involved in a double murder and the hunter was sent to valuable antiques the hellenistic treasures which disappeared in a theft many years ago you are now burning in a copper Helpers that's incredible will démbr express imagine Houms that's incredible the hellenistic treasures fila obrigado info not nothing but trifles where are the merry man I don't know why you are asking me Mycroft they are yours to find Ti vedo pronto, mio fratello Non si muove, tu flimflammer Il trap con il chandelier ha funzionato perfettamente Charles Foley è stato scoperto Quella bellissima collezione Uno dei compagni di Foley è scoperto Uno dei compagni di Foley è scoperto Uno dei compagni di Foley è scoperto E quindi La vendetta di Foley Charles Foley ha organizzato il furto dei tesori ellenistici Collegato col duplice omicidio all'Alfumun Street Leighton Chapman è un testimone del delitto E' così semplice? Cioè non abbiamo altri indizi Abbiamo altro da fare? Abbiamo tutto E' troppo scontato Beh L'hanno praticamente ammesso Devo solo capire bene come è andata la dinamica Però non possiamo fare altro Possiamo uscire qua Piri Pi-piri-piri-piri-piri Non c'è altro da fare Watson Ok l'altro li abbiamo catturati ma Eh Un raid A quest'ora Cribbio Ara Reviews Grazie Grazie per il raidone Grazie Stavamo concludendo Il L'ultimo caso di Sherlock Holmes Crimes and Punishments E Non c'è rimasto più niente da fare Parare col tipo in galera Non Non possiamo Bussano Chi sarà mai? Andiamo a vedere Potapig Benvenuto Grazie per la Subscribe Nulla in cassaforte Ci ho già guardato Ce la Combaccio con quello che è stato rubato Qui non mi fa Non mi fa andare oltre Siamo a posto Il caso Fila Ciasfoli Andrà in prigione Per aver organizzato un grande furto Poiché Non è direttamente Colpevole La sua condanna sarà ridotta Beh Non è direttamente Colpevole Esatto Ed eseguito Un perfido piano di vendetta Con l'aggiunta di Furto Di antichi e preziosi tesori Merita al patibolo Sì L'uomo con la giacca è lui Non è collegato ma Ciasfoli Porta un antico anello L'ultimo pezzo mancato La cosa del 5 Oltre a una pistola Sotto la cintura Ciò dimostra che Foli è il nostro Misterioso uomo in giacca Fuggito dal cimento Dalla scena del crimine Del Fumus street Cosa si potrebbe cambiare Fumus street A Layton Potrebbe avere Un movente Personale Proviamo un attimo A vedere Se si dà la colpa A Layton Duplici omicidio Ha commesso Duplici omicidio dal Dalla fumus street Una vecchia nemicizia Avuta tra le dito Deciap A quello che abbiamo Visto prima Che non ha Assolutamente senso Questo Questo Ha commesso Un doppio Suomicidio dal Fumus street Il momento È stato il purto Di antichi e preziosi tesori L'ultimo pezzo Di 5 ariete Di mitilene L'anello con la testa ariete Non è ancora stato ritrovato Si maccia Ma non Non gliene sbatte una sega Nullè E quella E basta L'altro tizio Era il ladro Che aveva rubato I gioielli Se non voglio Il silga Le 8 E questo E lo condanniamo Perché È un criminale Del cacchio Proprio Proviamo Vai Condanniamolo Charles Foley Tu hai commesso Il crimine Di premeditato Di mordere E di La scuola Tu sarai Severemente Punisato Per le vostre Dezioni Tu sei Piticoso Tu Scotland Tu Cosa 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 c'è? Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo andare a fare? Twist La cena Dobbiamo andare a cena Dobbiamo andare Eh Ah no Sono gli stronzi Buonasera Gentile Chi è Qui? Ci sono Sto ascoltando E' solo più vulnerabile e più protezione Non siamo solo del imperio britannico Alguni di noi sono dei nuovi luci America, Australia E siamo molti Ma i meni siamo ancora E siamo felici E siamo felici, per questo abbiamo stoppito di essere fatti Per i quei potenti che sono hanno fatto il suo meglio per plantare il medo dentro dei nostri osi E abbiamo accettato così facilmente Il medo ha advised uscire di mantenere i nostri head Ci sono stati segnati Ci ha evitato di combattere Banca e politici Ci hanno ottenuto le nostre vita Il nostro lavoro Il nostro bianco Il nostro bianco E ci pushano a competere tra i nostri Solo per vedere chi potrebbe servire Ma in fine Ci sono i pochi E quindi Ci sono forti Ci sono nulla senza i nostri titoli Ci non dovremmo farlo Ci sono stati Ci sono stati Ci sono stati Ci sono stati La prestazione è che Il nostro gruppo Ha ottenuto Il nostro grande e molte Sonia Le london Le non Non ci sono liberti Ma i nostri Le nostri sitzioni Ci sono stati Ci sono stati Ci sono stati Le loro Allora Pagani, dopo tutto, molte persone saranno liberati questa mattina. Questo è un passo radicale a fare. Quali risultati si aspettate? Chiaos. Ma presto le persone sanno capire che sono liberi e che non appartengono a nessuno. Ci saranno potendo lavorare per loro, insieme, senza lasciare i regolatori diccare cosa fare. E finalmente, giustizia si avvicina. Cosa stai intendo a fare è un crimine, non è giustizia. Cosa si vede giustizia, allora? Pagani si vede a la prigione per un po' di bianca? E come molti lords vedi che vedi per scegliere da loro persone? Sendo loro a loro morti in mines, o a loro scegliere per la terra? Nessi i maestri non potremmo usi. Quindi ora è ora di cantare la canzone dei merrii meni. Pagani, non potresti lasciarmi fare il nostro obiettivo? A parte che così facciamo esplodere tutto, anche noi ci esplodiamo. Scusami, che scelta è? La rivoluzione. Quando la legge serve solo i pochi, non potrebbe essere più confiato. Ogni uomo è uguale. E ha il diritto di scegliere la sua propria. Ma non ti stoppere. Per lo sciò. In realtà sarebbe dovuto restare tutti e diciamo imbecilli. Ma non comandi un gazzo te. E che dovremmo dirlo a... al fratello, a Mycroft. Non sbagliava mia, dava fatto che tu esplodeva tutto. Allora, sei interessato nella storia russiana ora? Molto. È un libro interessante. Mi ricordo alcune linee. In vero? Ho provato a leggere la stessa, ma ho avuto un po' difficile capire. Sì, doctor. È sull'intelligenza. Sono compiunti. Mi ricordo alcune delle linee. A volte ci costa qualcosa di più che intelligenza farlo. Intelligently Hmm There were also a few words along the lines of Pain and suffering are always inevitable Through a large intelligence and a deep heart Hmm Tell me doctor Does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of Because you see doctor Behind all of his masquerade My brother does possess a deep heart So deep that he does not recall where he places his love Well I'm sure that His love and his duty that In the first place Should be directed towards the empire For without it We would be nothing A country filled with uncivilized men I should leave now Sherlock Doctor Watson Oops What just happened? What was that? The start of a new world Anything in the post Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbor She urges you to remove your... Oh I don't care about that Holmes The lady who will be moving in shortly Has requested the use of our spare room to place all of her boxes Wait What? Questa è quella del... Del sequel Quello che abbiamo già giocato The Devil Daughters In teoria credo no? Comunque 18-18 Platinato quindi eh Platinato Era un minicicciolo con l'esplosione Beh no Sì in teoria nella... In The Devil Daughters Che è il capitolo dopo C'è la signora che si trasferisce Quindi Piri 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 E basta Se no ci da il copyright Quindi per cortesia Accettiamo la decisione Stai per finire questo caso I file di salvataggio per il caso saranno rimossi Premi no Se vuoi selezionare un'altra scelta morale Premi sì Sì Vediamo Molti hanno fatto la nostra scelta morale Eh? Qui ci stava Lei è la signorina Maria No? Bello Mi è piaciuto Il Devil Daughter è molto più bello Come storia più che altro In realtà i casi Sono molto belli anche qui Però vabbè Il Devil Daughters è molto figo C'è anche la storia Qui la cosa brutta Allora è figo perché sono casi molto separati l'uno dall'altro Però è molto carina la... È poco carina la... La cosa degli allegri Dei tre allegri ragazzi morti lì Come si chiama Per lì è una band O sbaglio Perché ti arriva Minecraft dopo la tipola Tipo il secondo caso A buttare giù due parole E poi però è tutto nell'ultimo caso Gli allegri compari Sì I Merryman Poi è tutto nell'ultimo caso Non c'è Invece nel Devil Daughters È tutto ben distribuito È tutto ben distribuito Quindi è molto più bello E il caso finale È tutto basato su quello Mi pare De ricordare D'altro se lo volete recuperare Devil Daughters L'ho già fatto sul canale In teoria Se lo cercate Lo trovate Nel... Sul canale YouTube Dove ricarichiamo le live Canale YouTube dove... Beh Vi basta cercare sempre John Holmes Perché tutte le ho intitolate Con John Holmes Anche quelle lì Quindi Sì Questa è stata molto veloce Rispetto a quello Prossimo gioco Boh Si vedrà Qualche idea ce l'ho Ma no Ma tutte Musiche free sono Tutte di Kevin MacLeod Da Incompetech Sono quelle che uso Su Per fare le musiche su YouTube Però l'abbiamo finito In teoria Sì Cioè C'è un'attività di coda Non è che adesso Arriva Gigi E mi dice Uè ciccio Si fuma le canne È drogato Beh Sono capito una cosa Però dove cazzo È finito sto treno Ah no Credo sia infinito Qui Apri il registro Per vedere le ultime caccate E scegliere di rifare I casi Credo Esci Stato piacevole Sono contento Sono Dai Sono stati Dei grandi Bei momenti Comunque In questa serie Se posso permettermi Abbiamo finito Alle 4 Precisissimo Tutto secondo i piani Sono contentissimo Grazie a voi Di averle seguite Non grazie a me Per averle portate Dai Siete stati Un pubblico Meraviglioso Sono successe Delle cose Incredibili Io spero di Portarvi un altro Nuovo gioco Che vi prenda Così bene Una bella avventura Sì Comunque Un best off su youtube No Non avrebbe tanto senso Un best off Di Sherlock Holmes Come cacchio lo monti Che non si capisce E poi niente Le clip più belle Le trovate poi Nei best off Oppure su discord Se entrate su discord C'è la sezione clip Dove lì vengono Messe tutte le clip Quindi Amici Vi ringrazio di nuovo Grazie per essere stato Un pubblico Incredibile Può darsi Aranel Può darsi Devo solo trovare Un horror Carino Però forse L'ho anche Già mezzo trovato Non lo so Comunque vedremo Vedremo Perché poi più avanti Ho già anche in mente Una serie da riportare Una vecchia gloria Quindi Un saluto a tutti Passate un buon weekend E noi ci si vede Con il moro by night Settimana prossima Mentre con i termosifoni Domenica sera Buonanotte a tutti